È in atto, signori, e noi da questo dobbiamo assolutamente prenderne i buoni frutti. Perché? Perché c'è una rivoluzione fiscale già in arrivo subito da dicembre e quindi dobbiamo assolutamente scoprire a quanto ammonterà la busta paga prevista proprio per il periodo che ci piace di più, per Natale. Il governo è in pieno fermento con un piano che sembra destinato a rivoluzionare il sistema della tredicesima nella busta paga dei lavoratori italiani. Questa operazione dovrebbe avere un impatto tangibile già a partire dalla tanto attesa busta paga extra di dicembre di quest'anno. In poche parole, con la tredicesima dovrebbe arrivare anche un bel regalo di Natale. Ma cosa sta dietro a questo cambio radicale? E cosa possiamo aspettarci? Di quanto sarà l'aumento in busta paga della tredicesima? In primo luogo, dobbiamo sottolineare che questa mossa è strettamente legata all'implementazione della riforma fiscale portata avanti dal governo Meloni. L'intero impianto ha già ottenuto l'approvazione tanto attesa sia da parte del governo che del Parlamento. Le misure di cui parliamo in questo articolo, dunque, fanno parte dei primi decreti attuativi, che andranno a completare il quadro delineato dalla legge di bilancio. Il governo ha fissato una scadenza importante per questo progetto. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere pronti entro il 20 settembre. Un elemento chiave di questa riforma è l'introduzione della cosiddetta «flat tax», un obiettivo ambizioso che però non sarà immediato e dovrebbe essere raggiunto entro la fine della legislatura in corso. Tuttavia, già a partire da dicembre 2023, se le risorse lo permetteranno, potremo assistere alla prima riduzione delle aliquote fiscali, con l'obiettivo di ridurre da 4 a 3 gli scaglioni fiscali. In quest'ottica, si sta attualmente discutendo di una riduzione dell'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che incide pesantemente sulla tredicesima. L'idea in circolazione è quella di portare l'aliquota dall'attuale 23% a un più leggero 15%. Va sottolineato, però, che non è ancora chiaro se questa misura sarà strutturale e permanente o se rappresenterà soltanto un intervento temporaneo limitato a quest'anno. Tuttavia, una delle novità più interessanti potrebbe riguardare una detassazione uniforme per i lavoratori con redditi medio-bassi, con una soglia di reddito stimata attorno ai 35.000 euro all'anno. Questo rappresenterebbe un cambiamento significativo, riducendo il carico fiscale per coloro che guadagnano meno, contribuendo così a una maggiore equità fiscale. Se si seguono gli schemi che si trovano online, abbiamo più o meno i dati che riportiamo di seguito. Questi importi sono calcolati in base al risparmio dovuto all'abbassamento dell'IRPEF, che porterebbe nelle tasse dei lavoratori un aumento in tredicesima. Con un reddito annuale di 15.000 euro l'aumento sarebbe di 80 euro circa. Con un reddito annuale di 20.000 euro l'aumento sarebbe di 160 euro circa. Con un reddito annuale di 25.000 euro l'aumento sarebbe di 200 euro circa. Con un reddito annuale di 30.000 euro l'aumento sarebbe di 480 euro circa. Con un reddito annuale di 35.000 euro l'aumento sarebbe di 560 euro circa. Con un reddito annuale superiore a 35.000 euro l'aumento dovrebbe rimanere di 560 euro circa, ma sembra destinato a salire in maniera quasi vertiginosa qualora la misura dovesse essere stesa ulteriormente in maniera proporzionale ai redditi più alti, con cifre vertiginose per chi è già miliardario. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.